Un caro saluto a tutti voi che ascoltate. Ci siamo domandati nel primo incontro, ma i Santi servono ancora? A che cosa servono? Ed ecco, abbiamo risposto che in questo mondo, che non ha più punti di riferimento o ha punti di riferimento sbagliati, i Santi vogliono essere un punto di riferimento, un punto di riferimento per perfezionare se stessi e per essere non solo utili, ma edificanti, ma costruttivi, nei riguardi della società. I Santi di solito vengono rappresentati con la massima semplificazione. Si mette una palma per indicare che un martire, un giglio, per indicare che è vergine, il crocifisso nelle mani, per indicare la contemplazione e la priera, oppure, andito col braccio in alto, per indicare la predicazione. Alle volte, in ginocchio davanti al santo c'è un fedele implorante, oppure ci sono dei fedeli con abiti poveri per indicare che sono stati beneficiati dalla carità di quel santo. Ecco, fermiamoci su questo aspetto, per esempio, della carità. Noi vorremmo imitare la carità. In realtà, oggi c'è qualche cosa che assomiglia alla carità e che talvolta è la carità. C'è tanto volontarismo, ci sono dei benefattori, ma non è detto che sia sempre carità. Ecco, la carità è qualcosa di più alto, è qualcosa di gratuito, è qualcosa che si dona, non che dona semplicemente qualche cosa, ma che dona a se stesso al servizio degli altri. E i santi hanno fatto questo. Se noi volessimo imitare i santi della carità, a un certo punto ci accorgeremmo che non abbiamo la pazienza, la bontà verso tutte le persone e verso quelle bisognose in particolare. Ci accorgeremmo a un certo punto che non abbiamo il coraggio, la costanza, la delicatezza, la prudenza, l'umiltà, la forza sufficiente per continuare a fare quello che ci eravamo proposti. E ci domandiamo perché. Ma perché le nostre azioni sono l'espressione di quello che noi siamo e non possiamo rappresentarci in una maniera che non corrisponde al nostro essere. Non possiamo vantare qualità che non possediamo. Noi siamo come una caffettiera. Quando viene un ospite chiediamo se gradisce un caffè, ma non è sufficiente prendere la caffettiera per versare il caffè, in quanto questa operazione richiede alcuni preliminari essenziali. Bisogna che abbiamo messo dentro l'acqua, bisogna che abbiamo messo il caffè nel filtro, bisogna che abbiamo chiuso bene, che abbiamo messo sul fuoco e poi dopo aspettare che bollendo l'acqua sia trasformata questa in vapore che passa attraverso il caffè, trasferisca tutte le proprietà agli aromi e il gusto nel liquido da offrire all'ospite. Questo per dire che dobbiamo prima curare la nostra trasformazione interiore. Come? Ecco l'argomento della prossima volta. Un caro saluto a tutti.